Ma se con le mani c'è sticolo, con la testa? Perché si chiamano a pensieri? Se le ho pensate oggi! Ciao! Oh oh oh! Mi hanno regalato quella! E' quella! E' quella! E' quella! Ma è finita! Non ha le stesse rette però dai! E' un amore! E' un amore! E' un amore! E' un amore! Va bene amore mio! Amore! Amore!